Allora, iniziamo questa nostra settima e penultima meditazione di questo nostro corso di esercizi. E come dicevamo questa mattina, facciamo un passo successivo nel buio di Gesù. Entriamo dentro la notte della passione, entriamo dentro ciò che ha inaugurato il Getsemani, per cercare di capire che fissare lo sguardo sul mistero della passione significa sottoporci a quell'evangelizzazione che avviene appunto anche attraverso lo sguardo. C'è una cosa che, vedete, nella vita spirituale è stata sempre molto chiara. Noi diventiamo quello che guardiamo. In questo senso custodire lo sguardo non è una questione moralistica. Ma se tu fissi lo sguardo sul male, di qualunque tipo, alla fine ti entra dentro e ti abita. e si sedimenta nella tua parte più profonda. Allora scegliere che cosa guardare significa scegliere anche chi vogliamo essere. Più noi contempliamo quello che accade davanti ai nostri occhi, un po' come tutti i personaggi che sono raccontati da Marco, che sono lì presenti, sono lì con Gesù, non fanno nulla, non parlano, ma guardano quello che sta succedendo. La nostra speranza è che tutta quella scena e tutti quegli eventi, quelle parole, le azioni di Gesù ci entrino talmente tanto nel cuore da spingerci a una vera conversione. E ancora una volta, permettetemi di dire, di non confondere la conversione con il fomentare un qualche senso di colpa dentro di noi. Chi si converte non nutre un attaccamento particolare ai sensi di colpa, bensì al contrario, alla liberazione del senso di colpa perché ha incontrato un amore che l'ha liberato. È una logica completamente nuova, completamente diversa. Bene, oggi pomeriggio, per arrivare proprio al clou del buio di Gesù, che è la sua morte in croce, ho scelto come pezzo del Vangelo, come brano del Vangelo, che potesse in qualche maniera guidarci, quello che troviamo al capitolo 15 di Marco, a partire dal versetto 21 fino al versetto 40. E vi accorgerete che in realtà non ho scelto un brano che abbia un pieno compimento, ma ho voluto scegliere un versetto in mezzo a un'azione che sta accadendo. Noi ci insinueremo dentro una narrazione che è già all'opera, che è in movimento. Il versetto 21, qualcuno dice che è stato aggiunto anche successivamente, è come se ci portassi in qualche maniera ad entrare dentro questo movimento del figlio di Dio che sta per donare la vita per ciascuno di noi. Capitolo 15, versetti 21-40. Ma prima di leggere il testo e di commentarlo insieme, è importante dire che cosa non leggeremo, perlomeno non lo faremo qui nella nostra meditazione, ma nella preghiera ciascuno di noi può leggere per intero la passione di secondo Marco. Non leggeremo tutta la scena precedente, che dopo l'arresto di Gesù è il processo che Gesù subisce, questo essere portato a destrammanca, essere oltraggiato, insultato, sputato, picchiato, denigrato, ed essere poi condotto fino al punto in cui morirà in croce. E Marco vuole un po' suggerirci che in quel momento si sta compiendo la vera regalità di Gesù. Noi possiamo leggere in questo racconto tutte le tappe dell'incoronazione di un re. Innanzitutto la proclamazione di un re. Cioè quando è il momento in cui viene proclamato re Gesù? Nel momento in cui fa una cosa da re. E che cosa fa il re? Dà la vita per qualcuno, riscatta la vita di qualcuno. E Gesù è messo nella condizione di riscattare la vita di un uomo che si chiama Barabba. Gesù morirà al posto di Barabba. Ed è interessante perché voi sapete che il nome Barabba significa figlio del padre, ma se c'è uno che in realtà è veramente orfano è Barabba, non ha nessuno. Ed è un peccatore, non sappiamo niente di lui se non che fosse un assassino, un rivoluzionario, uno che certamente ha sbagliato e che si trova in carcere non per errore e che è stato condannato a morte giustamente. Bene, Gesù da re condona quest'uomo, salva quest'uomo, offre se stesso per liberare quest'uomo. Allora Barabba diventa davvero il figlio del padre, è lui che diventa il figlio. Gesù dona a quest'uomo un'appartenenza che non aveva, riscatta la vita di quest'uomo, dà la vita a quest'uomo. Allora questo re che è proclamato re nel momento esatto in cui Barabba viene liberato, viene condotto in maniera regale a ricevere la sua incoronazione, che è l'incoronazione di spine. E Marco ci parla di questo oltraggio alla persona di Gesù, che non è semplicemente un dolore fisico, è l'esa la dignità di Gesù in quel momento. Il disprezzo delle logiche di questo mondo, dell'apparenza. Avevamo letto ieri, non siate come gli scribi e i farisei che amano, i primi posti, vestire bene, essere salutati dalla gente, avere un certo riguardo. Questo re è un re strano, è un re che disprezza tutto ciò che il mondo invece esalta. È un'incoronazione al contrario rispetto alla logica di questo mondo. E così come ho avuto modo di dirvi, più noi guardiamo lui, più diciamo come possiamo noi andare alla ricerca invece dell'esaltazione. secondo la logica di questo mondo. Come possiamo, guardando un re che è coronato di spine, e noi siamo discepoli di un re che è coronato di spine, andare alla ricerca dei primi posti. Andare alla ricerca di metterci in mostra, di trovare una vetrina, di trovare un modo di affermarci così come capita in questo mondo. Stride, capite? Non è possibile dichiararsi i suoi discepoli e conservare questa logica tutta mondana. Allora questo re proclamato e incoronato viene accompagnato fino al trono. E il trono di questo re è fuori dalla città di Gerusalemme, appena fuori dalla città, sul Calvario. è il posto dove è collocato il trono e il trono è la croce. E questo re siede su questa croce, viene crocifisso, prende possesso e lì da re esercita il suo giudizio, giudica. Gesù sulla croce giudica il mondo, lo salva. Allora vedete, Marco ci sta parlando sì di un re, ma non di un re come quelli di questo mondo. È un re diverso. È un re che non sfrutta i suoi sudditi, ma dà la vita per i suoi sudditi. Che non ha delle persone da spremere perché in questa maniera lui vive, ma fa esattamente il contrario. La sua grandezza è che può salvare la vita dei suoi sudditi. E che la grandezza di questo re non è mettersi una corona d'oro attorno al proprio capo, ma accettare le spine, rinunciare a tutto quello che è l'apparenza di questo mondo. È un re che si lascia condurre. È un re che capisce che il suo vero trono, cioè il posto dove effettivamente può regnare, è il posto dove lui è totalmente sconfitto. Noi lo vorremmo forte e invece c'è la totale debolezza di questo re, che giudica il mondo e lo salva. Ecco, questa è la scena che precede il brano che stiamo per leggere. E Marco, al versetto 21 di questo capitolo 15, comincia la narrazione dell'ultimo tratto di vita di Gesù con questa annotazione. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Guardate, noi possiamo immaginare che questo poveretto, questo Simone di Cirene, certamente non era un ricco. Se fosse stato un ricco nessuno avrebbe potuto costringerlo a fare qualcosa. È un poveraccio. Uno di quelli che dalla campagna gli è venuta la bellissima idea di festeggiare la Pasqua a Gerusalemme. Ma è un povero anche lui, che vuole semplicemente celebrare la Pasqua a Gerusalemme. Voi sapete che dopo che lo costringeranno a portare la croce di Gesù, anche lui sarà maledetto, quindi non potrà nemmeno celebrare più la Pasqua, perché è impuro. Quindi capite che gli hanno rovinato la festa a questo. E la percezione che quest'uomo ha è esattamente questo. Come sono stato sfortunato? Non soltanto ho cercato magari di andare a fare fortuna altrove e non ho fatto fortuna. Vado a Gerusalemme per celebrare la Pasqua e mi succede una cosa che mi impedisce di celebrare la Pasqua. Oh, che sfortuna! Povero Simone di Cirene, non sa che lui ha avuto il privilegio di fare una cosa che nessun altro potrà fare in tutta la storia di Gesù. Sarà la persona che avrà il privilegio di poter stare accanto a Gesù nel momento più importante della sua vita. Ma lui non lo sa. Come molto spesso succede a ciascuno di noi. Anche noi, vedete, veniamo angariati. I romani lo facevano spesso. Quando il testo ci parla che lo costrinsero, che angariarono Simone di Cirene, significa che era un'abitudine dei romani costringere la povera gente a fare dei lavori senza essere pagati. Loro avevano deciso che tu dovevi fare quella cosa e la facevi, punto. Perché erano abbastanza violenti e forti da obbligarti a fare quella cosa. Quindi Simone di Cirene non è un compassionevole che rimane colpito dalla sofferenza di questo condannato a morte e dice adesso gli do una mano. È un uomo che è angariato, è costretto. Molto spesso le cose più importanti della nostra vita inizialmente noi le percepiamo come una disgrazia, come un obbligo per noi, come qualcosa che non avremmo mai scelto. Non lo sappiamo, capite, che abbiamo il privilegio di condividere la cosa più importante che ci poteva succedere nella vita e in quel momento noi quella cosa importante la chiamiamo disgrazia, la chiamiamo sfortuna. Pensiamo che tutto è contro di noi. E Simone di Cirene non sa che se c'è qualcuno che assomiglia a Gesù in quel momento è esattamente lui. Anche Gesù è un cireneo. Anche lui sta portando la croce di qualcun altro. Con la grande differenza che però Gesù ha scelto di portare la croce di qualcun altro, la nostra. E Simone invece è costretto a portare la croce di qualcun altro. Perché mi è capitata quella cosa a me? Perché mi è capitata quella famiglia o quella chiesa o quel confratello o quel dolore o quella situazione o quel peccato? Tutti noi ci facciamo questa domanda e molto spesso pensiamo di subire un'ingiustizia. Come Simone ha la percezione di subire un'ingiustizia. Tante cose dentro la nostra vita diciamo ma io vedo gli altri, gli altri non hanno quei problemi che ho io. Tra tutte le persone che erano presenti a Gerusalemme, tra tutte le persone... Oh, ci vuole fortuna di essere beccati dai romani per fare una cosa del genere. Non c'erano altri. Quindi la sensazione che ha Simone di Cirene è proprio quello di aver beccato la cosa più sfortunata che possa succedere al mondo. È una sensazione che succede dentro la nostra vita. Perché c'è successo proprio a noi tutto questo? Vedete, l'errore è pensare che basta essere molto profondi, di usare molto l'intelligenza per rispondere a questa domanda, ma la verità è che non c'è una risposta a questa domanda. In il momento in cui tu vivi questa esperienza non ce l'hai la risposta. Il Vangelo ci racconta questo semplicemente perché vuole dire che quando ci troviamo in quella situazione dobbiamo stare attenti a chiudere la risposta pensando di dire siamo sfortunati. Perché noi non lo sappiamo che cos'è nascosto dentro un certo buio che ci è successo. Perché Dio ha permesso un'ingiustizia simile? Ognuno di noi potrebbe guardare la propria vita e dire ma perché mi è successo questo? Solo dopo certe volte il Signore ci dà la grazia di rileggere e di dire ah ecco perché. Ma non sempre. Di certo però l'atteggiamento che noi dovremmo avere è l'atteggiamento di chi non ha la presunzione di sentenziare sulla propria croce, sul proprio buio, sulle proprie esperienze. Costrinsero a portare la sua croce a un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna padre di Alessandro e Rufo. Allora condussero Gesù al luogo del Golgota che significa luogo del cranio e gli davano vino mescolato con mirra ma egli non ne prese. Dicevamo oggi quando parlavamo del sonno dei discepoli il fatto che dormono davanti al dolore e che non riescono a reggere l'impatto con la sofferenza. e qui in questo momento a Gesù stanno usando un gesto di misericordia nei suoi confronti. Il vino mescolato con mirra aveva proprio il valore di essere una sorta di antidolorifico e lo volevano un po' stordire perché non sentisse il dolore atroce che stava per subire ma Gesù allontana da sé ogni antidolorifico vuole essere lucido davanti a quello che sta succedendo non trova vie di fuga non accetta nessun compromesso che un po' sono i nostri ragionamenti vedete dice sì è vero io faccio quel peccato ma lo faccio perché e abbiamo la spiegazione per cui facciamo quel peccato e se tu vedi la spiegazione dici ma sì è vero cioè è una buona motivazione ma è vino mescolato con fiele capite? non è la soluzione al nostro problema allora noi guardiamo quella scena e diciamo ma è brutto soffrire senza antidolorifici però Gesù ha fatto così allora significa che noi dobbiamo educarci a non rivolgerci mai al vino mescolato con fiele anche quando abbiamo tutte le ragioni per cercarlo e qui c'è una cosa molto bella di Marco veramente molto bella Marco non è un feticista della crocifissione ad esempio non indugia su quello che sta succedendo in quel momento non vuole esprimere la crudezza del gesto di quei chiodi che trapassano le mani di Gesù che tormentano il corpo di Cristo tutta la crocifissione è racchiusa nel racconto di Marco in un'unica parola in un'unica frase poi lo crocifissero punto perché vuole dire che la cosa più interessante non è la spettacolarizzazione della sofferenza di Cristo non è questa la cosa più importante la cosa più importante è Cristo anche qui noi nel nostro cristianesimo possiamo porre un accento eccessivo sulla sofferenza e alla fine possiamo dare l'idea che c'è una sorta di sadismo e di masochismo nel cristianesimo una sorta di amore per la sofferenza in fondo la sofferenza ci piace fa tanto cristianesimo no? ma questo non è vero il cristianesimo non è il culto della sofferenza quando noi incontriamo la sofferenza nel cristianesimo la incontriamo soltanto perché è l'espressione di qualcuno che sta amando non di qualcuno che ama soffrire e se tu ami la sofferenza solo per la sofferenza sei malato e sapete questo tipo di meccanismo muove dentro di noi una logica che è terribile il fatto che siccome noi ci sentiamo colpevoli in qualche maniera pensiamo che la sofferenza ci aiuta a espiare le nostre colpe quindi è tutto un commercio ci diamo dolore perché pensiamo che così pareggiamo i conti ma in realtà siamo chiusi in un meccanismo di schiavitù è il dolore che cerca di pagare in qualche maniera la colpa quante volte vi sarà capitato e a me capita sovente di incontrare persone così che si trovano a vivere situazioni familiari terribili che vivono delle cose molto difficili dentro la loro vita e in fondo in fondo anche se soffrono pensano di di meritare quel dolore avrò fatto qualcosa sto pagando per qualcosa e questo è un pensiero diabolico perverso come se noi ci meritassimo tutto quel dolore e quindi come se ci abituassimo a quella sofferenza qui Marco dice la cosa più interessante non è la sofferenza è Gesù come vive le cose e sapete anche qui con una delicatezza estrema Marco ci dice che non soltanto Gesù viene crocifisso ma subisce un'ulteriore umiliazione Gesù muore nudo lo spogliano però anche qui c'è un rimando interessante quando noi leggiamo il libro della Genesi una delle cose più belle che testimonia la comunione di Adamo ed Eva con Dio è il fatto che possono stare nudi senza vergognarsi sono nudi e non provano vergogna la vergogna della loro nudità nasce dopo il peccato originale e quindi Gesù che sulla croce è nudo capite è Adamo stiamo tornando al principio in quel momento si sta rifacendo la creazione non è nudo tutti pensano che è nudo perché Gesù è oltraggiato ma in quel momento vedete come le cose le possiamo leggere sempre in due registri ma no è nudo perché è un ulteriore sfregio a questa persona attenzione che Gesù accetta quella nudità perché è la nudità di tornare all'origine non ha nessuna sovrastruttura Gesù in quel momento è nudo e qui apro e chiudo una parentesi voi sapete che la sessualità che è un dono di Dio dopo il peccato originale noi lo percepiamo come un limite quel luogo del nostro limite noi lo viviamo sempre in due modi può essere il luogo della comunione e quindi noi torniamo al progetto iniziale di Dio la sessualità è il luogo della comunione oppure è il luogo del dominio allora quando la sessualità diventa peccato quando è l'espressione del dominio sull'altro la mancanza di castità non è per forza avere un rapporto sessuale con qualcuno ma esercitare questa forza della sessualità che diventa dominio aggressività violenza che è mangiare possedere tutta la storia della salvezza è uno che ci fa un dono e la più grande genialata che ci viene in mente è rubare uno che ti sta donando qualcosa io rubo il regalo questa logica del possesso di prendere qualcosa che qualcuno mi sta donando rovina tutto allora qui tutto invece torna all'origine noi siamo riportati alla nostra nudità siamo riconciliati col nostro limite siamo rimessi nella posizione di Adamo non abbiamo più vergogna non si dice che Gesù si vergognano in quel momento però si dice una cosa importante si dice che dopo che lo crocifissi si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso allora la veste di Gesù viene tirata a sorte anche questo ci sembra un dileggio ma noi possiamo dare un'altra lettura in questo chi è Gesù è il figlio di Dio allora quel vestito è il vestito del figlio e sulla croce Gesù sta donando a tutti anche a quelli che pensano di oltraggiarlo il dono più grande gli sta donando un'appartenenza non siete più orfani non siete più come Barabba prima siete di qualcuno avete il vestito del figlio quando Luca ci racconta la parabola del padre misericordioso del figlio al prodigo quando va a abbracciare questo figlio gli cambia il vestito gli mette l'anello al dito i sandali i piedi lo fa nuovo lo riveste cioè gli ridà di nuovo la dignità di essere figlio allora Gesù sulla croce ci fa questo dono immenso di essere di nuovo figli e perché lui fa quella fine che io ho di nuovo un'appartenenza tenete a mente questa parola ho di nuovo un'appartenenza significa che non sono solo che sono di qualcuno questo significa avere un'appartenenza erano le nove del mattino quando lo crocifissero anche questa è una particolarità del Vangelo di Marco Marco cita tre ore in questo racconto le nove del mattino che è l'ora terza mezzogiorno che è l'ora sesta si fece buio su tutta la terra e le tre del pomeriggio che è l'ora nona il momento in cui Gesù muore perché cita questi tre orari terza sesta e nona le nove mezzogiorno le quindici del pomeriggio perché erano gli orari della preghiera del tempio in quel momento il vero tempio è davanti ai loro occhi la vera liturgia non è quella che accade dentro il tempio Gesù ha ragione nel dire è finito il tempio c'è un altro tempio io sono il tempio è un'altra liturgia capite e gli sta tonando un'altra liturgia e Marco appunta questa nuova liturgia sono le nove del mattino quando succede questo è l'ora terza e la scritta con il motivo della sua condanna diceva così il re dei giudei vedete chi è stato proclamato re adesso ha preso il possesso sul trono c'è anche una scritta che dice che quell'uomo lì è il re il re dei giudei ma non i re come i re di questo mondo non è un re come tutti gli altri capite è vero Gesù è un re ma non come se lo immaginano gli altri è un altro re e con lui crocifissero anche due ladroni una a destra e una alla sua sinistra la compagnia preferita di Gesù stare in mezzo ai peccatori anche in quel momento solo che a differenza di Luca di Giovanni eccetera il problema di questa compagnia di Gesù è che gli è contro Marco dice che non sono a suo favore anche chi muore con lui non è per lui si mettono contro di lui quelli che muoiono per la loro giusta condanna quindi non muoiono da innocenti come Gesù ma muoiono da colpevoli si mettono contro di lui ora perché per noi è importante questo tema perché una cosa che noi non abbiamo ancora veramente digerito è che alla fine il male non lo pagano i cattivi il male lo pagano gli innocenti è sempre così immaginate in una famiglia un padre lavora con sacrifici però accumula un sacco di nervosismo e quando va a casa tutto il nervosismo che ha accumulato lo sfoga a casa sulla propria moglie magari e questa donna che tutto il giorno ha cercato di fare quello che poteva fare deve subire il male di suo marito e quindi vedete ma questa donna accumula a sua volta il male e se la prende con chi? con i figli e così vedete è una catena infinita che poi tutto il male di qualcuno poggia sempre sulle spalle di qualche innocente che colpa che colpa ne hanno quei bambini eppure sono i depositari del male di tutti e potremmo proseguire così all'infinito ecco Gesù è quell'innocente che prende su di sé il male del mondo ed è l'unico che può prendere su di sé il male del mondo quindi non deve scandalizzarci il fatto che il male coinvolga gli innocenti perché è sempre così il male lo pagano gli innocenti non lo pagano quelli che possono permettersi di difendersi ma quelli che non hanno strumenti per bloccarlo questo male se lo beccano tutto questo male e Gesù assume quella postura la posizione dell'innocente che prende su di sé tutto il male del mondo e qui Marco colloca una serie di parole qui Gesù non parla più sono gli altri a parlare a lui e tutte le parole che dicono prima che Gesù muoia finché Gesù non muore tutte le parole che gli vengono rivolte sono tutte parole contro di lui quelli che passavano di là lo insultavano letteralmente dovremmo dire che bestemmiavano quindi lo bestemmiavano scuotendo il capo e dicendo ehi tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni salva te stesso scendendo dalla croce vedete il problema è sempre lo stesso la bestemmia è volersi liberare della croce questa è la bestemmia ed è l'accusa che fanno a Gesù com'è? dici di essere il figlio di Dio di essere potente allora scendi dalla croce dimostraci che veramente sei il figlio di Dio quale altra cosa dovrebbe convincerci che sei Dio se non perché scendi dalla croce immaginate un po' se Gesù avesse ascoltato questa questa richiesta e prosegue così anche i capi dei sacerdoti con gli iscrivi fra loro si facevano beffe di lui gli ridono in faccia ecco Gesù sta morendo e c'è gente che gli ride in faccia si facevano beffe di lui e dicevano ha salvato altri quindi citano tutti i miracoli no? e non ha salvato se stesso non può salvare se stesso il Cristo il re di Israele scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo praticamente stanno dicendo siccome adesso lui non si sta salvando significa che neanche gli altri miracoli erano veri erano una truffa quelle cose lì perché se nel momento in cui questa persona deve finalmente fare qualcosa e lo deve dimostrare con la sua persona non lo fa allora non era vero nemmeno tutto l'altro non erano veri i miracoli di quel paralitico di quel lebroso di quell'uomo con la mano inaridita prudentemente Marco prima dell'inizio della passione colloca l'episodio della guarigione di Bartimeo quasi a voler dire guardate che se qualcuno non vi guarisce lo sguardo non vedrete nulla di quella passione il dono della fede è il dono di uno che ti apre gli occhi e ti fa vedere ciò che da solo non vedi tu pensi di vedere tu sei un cieco che pensa di vedere voi dite di vedere ma non vedete e anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano allora vedete la folla i capi dei sacerdoti e chi sta facendo la sua stessa fine tutti lo insultano sono tutti contro di lui Marco non ha nessun altro modo di dirci quanto è abissale la solitudine che Gesù sta provando e a noi cosa chiede è di guardarla questa solitudine di guardare questa incomprensione di guardare questa contraddizione questo scandalo e quando fu mezzogiorno eccol'ora sesta si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio Marco non ha zarda a dire che c'era un eclissi però dice che una roba del genere rende tutto buio non si vede più niente si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio e alle tre Gesù gridò a gran voce in questo momento della parte finale della vita di Gesù Gesù parla due volte anzi dovremmo dire che non è che parla due volte grida due volte la prima volta che grida è per dire per citare questo salmo 22 Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato Gesù urla questo abbandono allora uno che si è fatto carico del male del mondo significa che si porta addosso il male del mondo è uno che lo sente questo male del mondo e le persone che sono oppresse dal male si sentono abbandonate e Gesù non scende dalla croce perché da questo momento in poi nessuno che vive questa esperienza di sentirsi abbandonato possa più dire di essere da solo non c'è più nessuno che può dire di essere solo anche quando si sente abbandonato perché Gesù ha deciso di abitare l'abbandono allora dove è Dio quando io sento la gente gridare dove è Dio è lì il figlio è lì nel grido di queste persone che urlano che gridano che non ce la fanno più che si sentono abbandonate persino dal cielo Dio non è lontano Gesù decide di abitare esattamente quel grido quell'abbandono è tutt'oggi che mi torna alla mente il dolore di una madre prima questa mattina parlavo con Don Francesco e ho in mente il dolore di una madre che soffre il tormento della morte ingiusta di un figlio e non trova pace perché il figlio è morto ingiustamente è morto e dove è Gesù se non nel grido di quella madre nell'abbandono che sente questa donna nel sentirsi schiacciata sola non capita non accolta persino dalla chiesa dove è Gesù se non lì guardate che l'esperienza della fede è questo è l'esperienza di vivere ogni abbandono sapendo che da quel momento in poi cioè da quando Gesù è salito su quella croce nessuno è più solo in questa esperienza e guardate che c'è redenzione solo perché noi non siamo più soli in quella solitudine se Gesù non avesse gridato quell'abbandono non avrebbe condiviso fino in fondo la nostra condizione umana allora capita a tutti noi di fare l'esperienza di essere sgomenti di sentirci abbandonati soli persino Giovanni prima di morire nel carcere ha la sensazione che è stato tutto sbagliato gli viene il dubbio che quello per cui ha dato la vita forse non era lui anche perché dopo che manda i discepoli da Gesù a dire ma sei tu non è che ci viene detto allora tornando in carcere Giovanni diede un respiro di sollievo e disse adesso posso morire noi non lo sappiamo effettivamente Giovanni come si è vissuto quell'ultimo momento che cosa hanno pensato i martiri nel momento in cui erano là che cosa è la tua esperienza dopo che hai dato la vita per qualcosa e a un certo punto hai la sensazione che tutto quello per cui tu hai dato la vita così è cancellato non c'è più non serve più ti senti abbandonato solo senza senso beh Gesù è lì è presente esattamente in quell'esperienza e lui lo grida Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato non è una bestemmia è una preghiera è un grido che dice che persino in quell'abbandono Gesù pronuncia le parole di Dio assieme al perché che è una cosa umanissima Gesù ci aggiunge Dio Dio perché non c'è niente di più umano che dire tutta l'esperienza degli esseri umani e poter dire una volta nella vita Dio perché questo ci rende uomini e udendo questo alcuni dei presenti dicevano ecco chiama Elia niente non si arrendono anche nel momento estremo della morte di Gesù c'è qualcosa dentro di loro che dicono dai forse ci siamo finalmente riusciremo a tirar fuori il miracolo sta chiamando Elia e qui c'è anche una cosa importante perché in fondo hanno ragione nell'antico testamento le ultime parole riferite a Elia sono queste che tornerà a Elia e riconcilierà il cuore dei padri verso i figli e loro davanti agli occhi stanno vedendo esattamente Elia uno che ha fatto questa riconciliazione uno che sta offrendo l'occasione di riportare il cuore dei padri verso i figli il cuore del figlio verso il padre è questo loro lo dicono perché stanno dileggiando Gesù ma non sanno che in quel modo stanno dicendo la verità vediamo se viene Elia e uno corse a inzuppare di aceto una spugna la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo aspettate vediamo se viene Elia a farlo scendere deve venire Elia ma per farlo scendere sempre da quella benedetta croce ma Gesù ecco la seconda volta che grida dando un forte grido spirò letteralmente significa voi sapete che è mise lo spirito sta espirando e qui altro che rozzo segretario di Pietro che rimette a posto degli appunti e ce li riconsegna guardate la grandezza di Marco che cosa fa Marco in questo momento dice il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo siamo tornati all'inizio del Vangelo allora si aprì il cielo si squarciò il cielo e una voce dal cielo disse questo è il figlio mio Marco sta ricollegando tutto dall'inizio tutto quello che è successo nel battesimo in questo momento si sta realizzando e sta dicendo ai cristiani che stanno leggendo questo Vangelo che voi che sarete battezzati sarete sottoposti esattamente a questo passaggio anche voi morirete diventerete solidali con Gesù nella morte per ricevere una vita nuova diventerete figli più volte San Paolo dovrà descriverci questa questo triplice tempo del battesimo che noi lo troviamo qui raccontato da Marco e il velo del tempio si squarciò in due come si squarcia il cielo da cima a fondo è finito il tempio si è aperto finalmente e non è più una voce dal cielo quella del padre che dice ma pensate un po' il centurione che si trovava di fronte a lui cioè il capo del manipolo di soldati che lo ha ucciso che anche lì casualmente si trova a vedere Gesù morire in quel modo il capo dei suoi assassini sta guardando Gesù morire in quel modo ed esclamò davvero quest'uomo era figlio di Dio e non dice era perché adesso non lo è più significa che lo è sempre stato questo significa e lo era anche prima ma questa vedete è la vera rivoluzione il demonio vuole dire Dio prima della croce ma si può dire Dio solo dopo la croce questa è la fede cristiana se tu pronunci la tua professione di fede prima dell'esperienza della croce questo fa il demonio la vera fede è poter credere in Dio dopo la croce dopo che sei passato attraverso l'esperienza della croce dopo che hai vissuto tutto questo ora sì che si può dire che Gesù è il figlio di Dio adesso sì che siamo autorizzati a dirlo ad alta voce prima no il segreto messianico è questo non siate come i demoni che vogliono dire Dio prima della croce allora questo pagano assassino capo del manipolo di assassini di Gesù è il primo che fa la sua professione di fede è il primo che dice la verità su Gesù ma questa volta può essere detta questa verità davvero era il figlio di Dio davvero non per finta non era il Dio dei miracoli finché vedete Pietro Giacomo Giovanni quando vedono miracoli risurrezioni folle eccetera sono convinti che sia il Cristo e quando Gesù li interroga alla fine Pietro lo dice tu sei il Cristo ma Gesù sa benissimo che lo stanno dicendo non perché hanno capito ma perché si sono fatti un'idea sbagliata di lui allora devono prima farsi un'idea giusta di lui per poter dire tu sei il Cristo sei il figlio di Dio ora dopo che tu mi hai visto sfigurato in questo modo dopo che tu hai visto tutta questa debolezza dopo che tutta la logica del mondo è stata capovolta perché il nostro è un re capovolto dopo che è successo tutto questo prova a dire tu sei il Cristo eppure la fede cristiana è questa che tu passi attraverso il buio della croce e quella croce il demonio te la fa vivere perché ti vuole distruggere ma il Signore la permette perché vuole che tu lo riconosci come come tuo padre e l'intimità che ti viene data dalla croce con il Signore non te la può togliere più nessuno chi è passato attraverso l'esperienza della croce e ha fatto la sua professione di fede è invincibile è la fede che avvince il mondo e che ha vinto il mondo davvero quest'uomo era figlio di Dio e qui ci avviamo a concludere questa scena che vi invito ancora una volta a contemplare anche oggi pomeriggio entrare dentro questo buio nel vedere fino a che punto Gesù arriva come muore Gesù ed è una cosa che mi ha sempre impressionato leggere di alcuni esegeti che fanno un paragone tra quello che fa Marco e quello che ad esempio tenta di fare il Vangelo Apocrifo di Tommaso che è un Vangelo Apocrifo agnostico che proprio alla fine alla fine di tutta la scena del racconto di Gesù c'è la Maddalena che li sta seguendo e Pietro dice ma perché questa ci sta seguendo è una donna e Gesù dice lasciala venire con noi perché la farò uomo perché finché è donna non può seguirli questo è Tommaso e Marco invece inverte tutte le questioni dice che nel momento esatto in cui tutto si trova davanti a questa scena e tutto è distrutto e tutto sta iniziando e c'è di nuovo una professione di fede non si vedono discepoli maschi e si vedono invece donne vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano tra le quali Maria di Magdala Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome le quali quando erano in Galilea lo seguivano e lo servivano e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme qui Marco fa qualcosa di rivoluzionario chi era con Gesù durante la resurrezione della figlia di Gairo Pietro Giacomo e Giovanni chi era con Gesù durante la trasfigurazione Pietro Giacomo e Giovanni chi era con Gesù nel Getsemani Pietro Giacomo e Giovanni chi è con Gesù in questo momento in cui finalmente tutto sta iniziando non Pietro Giacomo e Giovanni ma Maria di Magdala Maria madre di Giacomo Giacomo di Ioses e Salome questo gruppo di tre è stato sostituito da tre donne sapete perché? è come se Marco volesse questo è un discorso spero che non lo prendiate come un assoluto ma semplicemente come un'indicazione no? per la mentalità maschile è difficile stare davanti a qualcosa che ti fa sperimentare la tua impotenza il fatto di non poter far nulla non puoi fare niente allora la cosa più intelligente che ti viene da fare andartene non puoi fare niente scusate il termine è da stupi di rimanere davanti a una cosa dove tu non puoi fare nulla invece queste donne sono lì quando non si può fare più niente con una gratuità estrema con un'accoglienza estrema per questo sono coloro che possono accogliere il mistero della Pasqua perché nel momento di più grande inutilità di Gesù non c'erano Pietro, Giacomo e Giovanni ma c'erano queste donne è un invito a ciascuno di noi a coltivare questo tipo di gratuità non è vero che noi siamo utili soltanto quando ci sentiamo utili noi siamo utili anche quando non lo siamo mi capita più volte negli esercizi soprattutto quando devo predicare ai religiosi alle religiose che in percentuale sono sempre di più le religiose dei religiosi di dover raccogliere il dolore la frustrazione l'angoscia di alcune di queste persone che dopo aver vissuto una storia gloriosa dei loro istituti si ritrovano ad essere le ultime non hanno vocazioni hanno un sacco di opere ma non hanno più vocazioni sanno praticamente che sono dei malati terminali lo sanno ed è una cosa terribile capite e uno dice ma che senso ha che ho dato la vita se poi siamo andati a finire qua come se noi siamo utili agli occhi di Dio soltanto quando le nostre opere ci gratificano e se a me il Signore attenti sto per dire una cosa importante se mi sta chiedendo di perdere chi sono io per dirgli no se mi sta chiedendo di fallire chi sono io per dirgli no cioè noi non facciamo la volontà di Dio soltanto quando la volontà di Dio ci dà soddisfazione ma facciamo la volontà di Dio anche quando la volontà di Dio significa perdere allora sono andato in quella parrocchia ed è andata malissimo significa che è stato inutile ma se il Signore ti ha chiesto di far questo di offrire la sofferenza che hai provato in quegli anni e non hai raccolto nulla chi sei tu per dirgli no o per pensare che quella cosa sia fuori dal senso soltanto perché tu non ne vedi l'utilità e come è potuto succedere che ho dato la vita al Signore e poi una malattia non mi permette di vivere il mio apostolato e chi sei tu per rifiutare al Signore quella quel senso di impotenza che vive in quel momento insomma cosa voglio dirvi che bisogna essere come Maria di Magda la Maria madre di Giacomo e Salome per poter capire la logica della croce e per poter intuire qualcosa della Pasqua queste donne hanno da insegnarci qualcosa e dice Marco erano in Galilea lo seguivano e lo servivano erano discepoli anche loro erano delle discepoli lo seguivano e lo servivano cioè guardate il problema è questo che si può seguire il Signore e servirsi del Signore queste invece lo seguono e lo servono noi a un certo punto invece di servire possiamo asservire gli altri allora siamo autentici i suoi discepoli quando lo seguiamo e lo serviamo facciamo qualcosa per Lui allora se vinciamo vinciamo per Lui se perdiamo perdiamo per Lui se gioiamo gioiamo per Lui se soffriamo soffriamo per Lui tutto quello che facciamo lo facciamo per Lui ieri l'abbiamo ascoltato nella lettura breve dell'ora media lettere Colossesi qualunque cosa facciate fatela per il Signore non per gli uomini allora questo è il servizio e questa è l'esperienza di queste donne ma fermiamoci qua in questa notte in questo buio dove tutto sta per iniziare qui c'è già tutto il seme della Pasqua ma e concludo non si arriva a capire questo per ragionamento si arriva a capire questo solo perché poi si è fatta l'esperienza della Pasqua perché se io non avessi la chiave di lettura della risurrezione che mi porta a rileggere tutto questa è soltanto una serie sfortunata di eventi una dopo l'altra di persone come Gesù brave persone che fanno una brutta fine e pieno il mondo dov'è la differenza? soltanto la risurrezione ci dà la differenza di tutto ma non è ancora il tempo di entrare nella luce della risurrezione per adesso dobbiamo lasciarci evangelizzare dalla sua passione e dalla sua morte buona preghiera grazie a tutti grazie a tutti